di nuovo insieme aggiornamenti da firenze smart mauro ciutini in studio un incidente avvenuto tra incisa reggello e firenze sud siamo sulla 1 in direzione di firenze sempre in direzione firenze sulla variante di valico un veicolo è fermo tra il bivio a1 variante di valico e badia altro incidente sempre in a1 tra chiusi e val di chiana in direzione di firenze prudenza per la pioggia segnalata al momento sulla firenze pisa livorno e sempre sulla firenze pisa livorno c'è un veicolo in avaria direzione livorno a montelupo fiorentino ricordo domani in a1 giovedì notte dalle 22 alle 6 sarà chiuso lo svincolo di incisa reggello in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni tutto buon viaggio a più tardi grazie a tutti